Vince sempre la capolista, vince sempre il Catanzaro, vince agevolmente anche contro una Virtus Francavilla che ci mette tanta buona volontà, ma non basta. Finisce 4-1 al Ceravolo, i pugliesi confermano i propri limiti in trasferta, non hanno mai vinto, sin qui hanno racimolato due soli punti in nove partite esterne. 15 vittorie, più due pareggi in 17 esibizioni in questo campionato invece per la prima della classe che continua in maniera spedita la propria marcia verso la Serie B. Catanzaro al sesto successo di fila che parte a mille, parte con un'azione da cineteca. Biasci con il tacco per Van de Putt, Avella è superlativo nella replica, si ripete il portiere della Virtus che respinge il destro a giro di Iemmelo poco dopo il quarto d'ora, però non sbaglia l'ex attaccante del Foggia, Martinelli lo lancia in profondità, il capocannoniere del Gironi ci scatta sul filo del fuorigioco, elude l'intervento in uscita di Avella e spacca in due la partita, 1-0, che risca di diventare 2-0 prima della mezz'ora ma Biasci fallisce il bersaglio con la soluzione ad incrociare, il raddoppio arriva comunque poco dopo, altra azione superlativa di Calabresi che si conclude con la staccata in spaccata sul secondo palo di Bombaggi. Prova a reagire in qualche maniera la squadra di Antonio Calabro, ex della partita, e Kuban recupera palla, la offre a Cesco che non sfrutta davanti a Fulignani la chance per riaprire ufficialmente la contesa, 2-0 all'intervallo. La ripresa comincia con la capolista sugli scudi, Iemelo su cross di Gheon non indovina il bersaglio, incorna bene, poco dopo invece ancora Bombaggi che fa 3 su punizione pennellata da Van de Putte, doppietta per lui 3-0. Prova a rendere meno amaro il passivo l'11 ospite e Kuban trova però la risposta da autore di Fulignati, non perdona dalla parte opposta al Catanzaro che si concede addirittura il poker. Van de Putte, notevole della sua gara, serve l'assist. Il mio entrato a Curcio realizza il gol del 4-0, Accademia giallorossa al Ceravolo, l'unica gioia biancazzurra, arriva nei minuti finali, molto bene l'acrobazia con cui Cardoselli fa centro per la Virtus, finisce 4-1 per la prima della classe che mercoledì sfiderà il Foggia allo Zaccheria nella gara secca dei quarti di finale di Coppa Italia di Serie C. Il Francavilla invece proverà a rompere il ghiaccio in trasferta in questo campionato, domenica prossima al Donato Curcio contro un Picerno decisamente in forma.